Un aneddoto che la ricorda, che forse la dipinge proprio, anche nel suo modo di essere persona molto allegra, una donna che amava il ballo, che amava le danze, che amava cantare, una femminile compagnia, come si dice. L'aneddoto è questo, ed è il titolo della mostra, Vardè e Ridè. Non importa se erano le donne che lavavano i panni nel Miss o se era un funerale, lei inquadrava e poi diceva Vardè e Ridè.